E' finalmente giunto quel giorno, il trailer di GTA 6 è stato pubblicato e rilasciato Purtroppo in anticipo rispetto ai tempi perché come sempre, purtroppo, qualcuno ha lickato il trailer in anteprima E quindi Rockstar si è vista costretta a pubblicarlo sui social Io il trailer l'ho già visto ieri notte perché tra l'altro è successo proprio così all'improvviso Quindi in questo video andrò ad analizzare il trailer, punto per punto Sarà un'analisi fatta comunque a braccio, cercando di vedere un po' tutti i dettagli Ma arriveranno nei prossimi giorni un sacco di video con delle analisi un po' più approfondite Con dettagli magari nascosti Cominciamo Non lo vedremo tutto diretto, lo stopperò appena iniziano a vedersi dei dettagli Proprio perché secondo me è tanto il trailer, lo avete già visto, quindi qua siamo più per un'analisi Allora, già qua, subito, ci si può fermare Perché? Perché in realtà già in questo primo screen ci sono un sacco di dettagli Allora, innanzitutto, innanzitutto qua si può intravedere la prigione La prigione di Vice City perché la città è Vice City come i leak dissero già molto tempo fa Tra l'altro qui, lo sto intravedendo adesso, c'è questa torre antenna, non lo so, gigantesca Me ne sono reso contato, è insomma, è troppo alta Cos'è? Stranissimo Comunque, qui c'è la prigione che dopo, tra pochissimo insomma, vedremo che ruolo ha Ma già questo primo screenshot fa vedere un po' il bioma di questa nuova Vice City Perché ovviamente sarà, sì, Vice City, ma sarà un po' come la Los Santos di GTA V Quindi una città che prende ispirazione dall'originale ma andando ad ampliare molte zone La città è enorme, non si è vista tutta naturalmente ma si riesce a percepire che è una città molto grande Una metropoli ancora più grande di Los Santos E si riesce a percepire anche quanto tutti gli intorni siano altrettanto grandi Qui comunque si vedono un po' di veicoli classici che si erano già visti anche nei vecchi giochi Anche in GTA V per fare comunque il confronto più rapido Si intravede qui il Patriot Il Patriot che è appunto una marca di birra che c'è anche in GTA V Ma mi sembra che c'era anche in GTA IV e forse anche nei precedenti Comunque, vari veicoli, moto, solida autostrada, densità dei veicoli qua per il momento normale Motoscafo qui, però in generale già comunque, no? Un bel assaggio Naturalmente gli aerei di linea Ecco qui che ci avviciniamo sempre di più alla prigione You see it? Eccoci qua Allora, allora, anzi Perfetto Lucia è la protagonista, una delle due personaggi giocabili di GTA VI Anche qui i leak ci avevano preso Veramente è pazzesco Non parlo solamente del leak dell'anno scorso ma proprio di quelli anche usciti prima Dove dicevano, eh, in GTA VI ci sarebbero stati due personaggi Una di queste sarebbe stata una donna Insomma, ci hanno preso Ci hanno preso Lucia però, secondo me, rispetto a Jason Perché i nomi sono appunto Lucia e Jason Sono una coppia in stile Bonnie e Clyde Secondo me lei sarà comunque principale Cioè avrà comunque più spessore lei rispetto a Jason Almeno questa è l'impressione che mi sto facendo adesso È solamente speculazione qui, eh Però, fattualmente, abbiamo qui la protagonista Tra l'altro un sacco di dettagli comunque anche sul volto Fateci caso adesso qui, vabbè, c'è questa sorta di tramonto Che, insomma, la colpisce sul volto Ma si vede proprio anche i dettagli, la texture della pelle È fatta molto bene Cioè guardate anche qui i vari puntini Insomma, bel dettaglio C'è una cosa importante che vedrete anche più avanti nel trailer Ed è la fisica dei capelli Fateci caso, i capelli, soprattutto dei personaggi principali O comunque quelli in po' di spessore È fatta molto bene Comunque ci troviamo in prigione Perché non si sa ovviamente bene Se sarà una cosa che avviene nell'inizio del gioco O addirittura avviene prima che inizia il gioco Quindi noi partiremo già in prigione Però, insomma, Lucia fa delle rapine Fa dei colpi, è una criminale Qualcosa evidentemente va storto E finisce in prigione Bisognerà capire se sarà magari il prologo Un po' sulla falsariga di quello che era successo anche con GTA V O noi partiamo direttamente da qua Con lei che finisce probabilmente i suoi anni da scontare Ritorna, tra virgolette, libera Per poi però rifinire, per qualche motivo Di nuovo nel tunnel della criminalità Penso comunque che lei sia, tra virgolette, recidiva Datemi un po' questo, passatemi questo termine Perché proprio adesso lei risponde ad un agente del carcere Che gli chiede, ma secondo te perché sei finita qui? E lei non è che tipo gli dice perché ho fatto degli errori Perché ho sbagliato Dice perché sono stata sfortunata Quindi non mi sembra una persona che non voglia smettere, diciamo così, con i colpi Però continuiamo Do you know why you're here? Ecco qui tra l'altro si intravede anche un po' Quest'altro personaggio, anche qui fatto molto bene A livello di texture in generale Siamo sui livelli oltre secondo me Red Dead Redemption 2 Ma almeno in questa scena Stiamo parlando comunque di un gioco ancora in sviluppo Ancora deve arrivare alla versione finale Qua secondo me il tessuto Però bisogna proprio andare a trovare veramente il puntino sulla i Mi sembrano un po' peggio rispetto a Red Dead Almeno di questo personaggio qui Bad luck I guess Dice no, bisogna un po' sfoci Ecco qua Mamma mia, già qui Realmente è una scena pazzesca L'acqua Il mare Cioè è stupendo ragazzi Allora una cosa in generale che si percepisce È che l'intera città, l'intero mondo di gioco Che per molti aspetti è un protagonista Cioè oltre appunto Jason, Lucia C'è anche la città Cioè Vice City è protagonista del gioco Perché è una città viva Si percepisce che è una città incredibilmente viva Che pullula di dettagli E rispetto banalmente al primo trailer di GTA V all'epoca Qui ci sono ancora più dettagli C'è ancora più densità di popolazione Guardate semplicemente la spiaggia Se paragonate questa con la spiaggia di Los Santos Sembra che ci siano tre gatti Qua invece è piena di gente Sia sul bagnasciuga che in acqua Seduta sui lettini Che camminano qua nei dintorni È fighissimo Veramente veramente fighissimo E in generale i colori Almeno la color correction se vogliamo di questo gioco Se si dovesse mantenere così anche nel prodotto finale È stupendo Ti dà proprio quell'idea di città viva Bellissimo Ma andiamo avanti Anzi in realtà ci fermiamo di nuovo Perché si intravede già l'elicottero Questo mi sembra Non il Buzzard Però insomma l'altro che c'era anche su GTA V Che ce ne sono parecchi Qua si intravede il Dodo Che tra l'altro sta trainando Un Una scritta diciamo così Un poster Uno di quelli volanti Un po' tipo stile grande fratello Con probabilmente uno spot Dice Perché 919 C'è questo 919 Che l'ho intraletto già da qualche altra parte nel trailer Però vabbè Poi Apriamo e chiudiamo una parentesi Le case Gli edifici Io mi aspetto e spero Da questo GTA Che ci siano molti più interni Esplorabili E naturalmente Tutte queste case Hanno il potenziale Di essere appartamenti vendibili Su GTA Online Perché ricordiamoci sempre Che poi questo Diventa anche l'hub Di GTA Online Del nuovo GTA Online Quindi immaginatevi sempre Tutto questo esplorabile Anche altrove Però Mi sembra che ci sia una spinta maggiore Un dettaglio anche maggiore Proprio nelle singole case Perché anche qui Finestre Balconcini L'attico Qui Queste porte Queste finestre Che si possono aprire Si può entrare Vediamo Vediamo Ecco c'è Ad esempio anche semplicemente qui Questo primo piano Cioè qui le case mi sembrano Molto più dettagliate Poi Magari non sono esplorabili Anche se qui in realtà Si intravedono Persino le luci interne Vedete Non so se si riesce a vedere Però si intravedono Anche un po' dei dettagli Banalmente Ma basta veramente Un vaso Una pianta Così Gli abiti messi lì Ecco qua sotto anche Si intravedono Sono sempre le stesse Tre lucine del cavolo Però qui un po' di gente Tra l'altro Che chiacchierano Mi dà l'impressione però Di essere Di avere a quantomeno La profondità Di dire ok Comunque dentro c'è qualcosa Molto figo Tra l'altro qui Questa sembra una di quelle Ve lo avevo fatto a casa adesso Una di quelle barriere A livello per i treni Quindi sicuramente Ci sarà ovviamente anche la ferrovia Dentro Vice City Però andiamo avanti Allora Questo era un veicolo Che c'era in San Andreas E ritorna qui Tra l'altro Molto bella questa zona Fa tanto Red Dead questo Però anche qui Sempre per farci capire Che non c'è solo La parte della città Ma ci sarà una parte Anche molto fuori Molto più naturalistica E questo aspetto Del naturalistico Del naturale Degli animali Della vegetazione Viene da tutto il pedigree Di Red Dead Redemption 2 Ma andiamo avanti Allora anche qui Si vede che questa volta Ci sarà una Una fauna Molto molto più grande Rispetto a quella di GTA 5 Tra l'altro In GTA 5 Comunque Gli animali erano presenti Solo nel single player Mentre nel multiplayer Comunque nell'online Ce ne erano molti 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 di meno Per limiti tecnici Bisognerà vedere se questa cosa Succederà anche con questa versione Ma non penso Secondo me Nell'online Ci saranno gli animali Perché anche in Red Dead Redemption 2 C'erano molti animali E si poteva cacciare appunto Anche nel multiplayer Quindi qui su questa cosa Vado un po' più tranquillo Ci sarà la caccia Staremo a vedere Staremo a vedere Ci saranno comunque Attività legate Alla pesca Insomma C'è molto potenziale Qui si vedono comunque Un po' di fenicotteri E i coccodrilli Questi coccodrilli Torneranno molto nel trailer Ecco qua All'altra l'altro qui Si vede anche un cane Un carlino Sembra Un cane di piccola taglia E già qui Bisogna Ribadire il concetto Del quanto Questo GTA Sia effettivamente Next Gen Perché al di là Dei vari NPC Si può già vedere molto Perché hanno tutti Pattern diversi Fanno tutte azioni diverse E c'è soprattutto Una densità Di popolazione Molto molto Più ampia Rispetto al normale Si intravede qui Il veicolo Della Lifeguard Lifecost Qui ci sono le moto d'acqua Classiche Gente un po' in piscina Gente un po' in mare Qui c'è uno Che riprende Non so la ragazza Insomma quello che sia Con il telefono E ci arriveremo Fra poco A questa cosa del telefono Perché comunque GTA 6 È ambientato Ai nostri tempi Quindi quando uscirà Purtroppo nel 2025 Sarà ambientato nel 2025 Comunque giù di lì 2024 2025 E questo aspetto Della nostra società Quindi sempre a riprendere Social Live Eccetera Eccetera Sarà molto marcata Come del resto Insomma succedeva anche in GTA 5 O nei vari GTA Allora ecco qui Questa in realtà non è proprio Cioè una scena Normale in realtà Perché si intravedono ovviamente Le barche Nave merci Classica Ce n'era una anche simile In GTA 5 Sul porto Molto bella l'acqua Però io qua mi sento di dire Aspettiamo per l'acqua Perché è un trailer Fatto sì Quella grafica di gioco Ma non è gameplay Però che figo eh Qui Momento in auto Con Movimenti Insomma In movimento Movimenti in movimento Bellissima Penso Presumo Che si potranno fare Delle emote Mentre si è in auto Scusa me Soltanto per dire questo Tra l'altro c'è qui uno Che sta riprendendo Lei mentre è in Allora qui Mancabile la parte Invece delle low rider Che sono già presenti In GTA 5 Sono arrivate con un DLC Dell'online E Ma le rivediamo anche qua Quindi ci sarà ovviamente Il tuning Ci saranno le auto Tamar Il momento Pimp my ride C'è Elicottero della polizia Che si intravede qui Molto carino Qui vado Cioè si va molto sul sicuro Perché secondo me Tutto quello che GTA 5 Ci ha fatto vedere Negli anni Che è arrivato magari Anche dopo Con l'online Lo ritroveremo comunque Inevitabilmente Anche su GTA 6 Questo è proprio Secondo me Un dato di fatto Tanti veicoli Tra l'altro molti veicoli Che però invece Si sono visti anche già In GTA 5 Ho visti pochi nuovi Molti sono tutti già ripresi Moto Poi magari ovviamente Cambierà il feeling Della guida Però Poi qui Per quelli che dicevano Eh Ma GTA 6 Sarà politically correct Eh no Perché come vedete Siamo in un In uno strip club Quindi come La tradizione di Rockstar Perciò Si va abbastanza sicuri Su questo Qui guardate il dettaglio Questo sembra essere Un personaggio Secondario Molto probabilmente Ma guardate Ma guardate comunque I suoi dettagli Di nuovo Anche qui Dettagli della pelle E addirittura I denti d'oro La fisica Anche semplicemente Della collana E di nuovo Dei capelli Sono dettagli Da tenere in considerazione Poi 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 Aspettate Aspettate Ecco qua Vista Notturna Stupendo Perché qui ancora di più Si percepisce Quanto sia grande la città Che come vai si Tira divisa un po' In queste sorte di Di isolotti interni Se vogliamo Belli Cioè c'è poco da dire C'è poco da dire Molto belli Qua un po' di vicoli Parcheggiati Non mi sembra di spottare cose Troppo strane Anche qui Sempre palazzi Edifici C'è molta Cioè ti dà proprio L'impressione di una città Molto molto popolata Proprio ricca Pullulante Perché anche qui Un sacco di barche Messe così La sera Probabilmente per far festa Ci sono gli yacht Saranno guidabili Saranno acquistabili Come su GTA Online Chi lo sa Secondo me si E di nuovo aerei di linea Qui vita notturna Questa è Proprio ripresa Da Vice City Ovviamente Giustamente Vice City Deve esserci La parte essenziale Della città Con tutti gli hotel Tra l'altro c'è L'Ocean View Hotel Qui c'è l'Hotel Dixon Boardwalk Vabbè Questa zona di locali Qui tra l'altro c'è la Cita Macchina Una delle macchine storiche Di GTA 5 Soprattutto all'inizio Io la usavo spesso E macchine ovviamente Sempre parodie Non sono macchine Su licenze originali Ma scontato Però c'è chi lo chiedeva Però scontato E qui si vede uno Che probabilmente Sta chiedendo i soldi Un senza tetto Poi Locali Discoteca Club Cose che Uno potrebbe Sorprendono No Perché anche qui Sempre cose che C'erano già su GTA 5 Non voglio far passare Il messaggio del GTA 6 È GTA 5 evoluto No Però GTA 6 Prende le lezioni Fatte con GTA 5 Fatte con l'online Di GTA 5 E secondo me Il comparto Single player Di GTA 6 Sarà quello più ricco In assoluto Perché avrà Sicuramente tutta una serie Di contenuti nuovi Ma anche tutta una serie Di contenuti ripresi Dall'esperienza fatta con GTA 5 E qua Questo pezzo Secondo me è fighissimo Perché si vede Molto bene Tutto il mare Questa differenziazione Tra l'altro dei colori Dal blu scuro A questo verde Smeraldo Fighissimo Gli aereo Gli aereo Ovviamente Che c'è Insomma Questo Sempre l'aereo Che va anche Sull'acqua Che adesso mi sfugge il nome C'è qui Un ponte in costruzione Con però delle rampe Quindi Ah si vola Di nuovo Yacht Yacht Ma qui c'è una novità Una cosa che non si era vista Perlomeno Negli altri GTA Cioè Le navi Cargo Che però Effettivamente Stanno in acqua Si muovono Quindi in teoria Si potrebbero anche Controllare e rubare Mi aspetto magari Qualche missione Anche legata a queste cose Magari Bisogna scortarle Bisogna portarle Da qualche parte C'è il dirigibile qua Attenzione E Poi queste lunghe autostrade Mi piacciono un botto Non mi ricordo Sinceramente Sta parte in Vice City Perché tra l'altro Vice City è quello che ricordo Di meno purtroppo Però Sicuramente questi sono I classici Percorsi autostradali Un po' come anche su GTA 5 Che ti portano poi Nelle zone periferiche Fuori dal Dal caos cittadino Qui molta più natura Infatti si inizia A intravedere I vari isolotti E' figo In generale comunque Una scena fighissima Anche qui Di nuovo il traffico La gente Bello Qui di nuovo La fisica dei capelli Perché adesso E' figo C'è questo dettaglio Siti ovviamente E qua Vi volevo far vedere Questo dettaglio proprio Dei social Perché Come GTA 5 Aveva la parodia Degli iPhone Degli smartphone Con iFruit E qui sicuramente C'è un po' più di focus Su TikTok Sui social in generale E quindi qui Ho un sacco di video Commenti Eccetera eccetera Di nuovo i coccodrilli Qua attività notturne Di Derapate Gare Lowrider Insomma mi aspetto Anche un po' Quelle street race Particolari Molto carine Proprio dei raduni A tutti gli effetti Eccolo qua Di nuovo sto coccodrillo Allora Io ho un sospetto Mi è venuta questa idea Questo è proprio Un momento speculazione Secondo me Primo o poi Nel gioco Il coccodrillo Andrà usato Per un colpo Magari proprio in questo Che bisognerà distrarre Creare una distrazione E poi invece Fare un colpo Da un'altra parte Qui siamo in una stazione Di servizio Comunque E in realtà Nel leak Dell'estate scorsa Si era proprio visto Un colpo Ad una stazione Di servizio Coincidenze Questo invece È il pezzo Del trailer Che ho visto Un po' In rete Ha fatto discutere Un po' Di più Perché si vede Il POV Di un agente Di polizia Vedete Questa è una bodycam Tra l'altro qui Data misteriosa Perché 0804 Quindi in teoria Dovrebbe essere L'8 aprile Staremo a vedere Magari C'è l'8 aprile Di notte Perché sono le 23.58 Non capisco Non capisco Se sarà un momento In cui Noi controlliamo Degli agenti Della polizia O per qualche motivo Jason si finge Agente della polizia Non lo so O semplicemente Fa parte di una scene Perché quelli che scappano Non si riescono neanche A intravedere Comunque è molto bello Come fa Poi ci saranno ovviamente I folli I personaggi bizzarri Sparsi per il mondo di gioco E Di nuovo qua Fisica dei capelli E tra l'altro qui si vede Un altro dettaglio importante E cioè La Una nuova tipologia Di vernice Della macchina Questa metallizzata Qui di nuovo Gruppi di pazzi Questi sembrano essere Si chiama Mad Club Quindi gente che piace Andare nel fango Si intravedono i quad Adesso non mi ricordo Se c'erano anche GTA 5 Qui proprio Sempre per rimarcare il fatto Ci saranno i personaggi Bizzarri E qua invece C'è un po' più di Insomma il trailer Prende una direzione Un po' più Story based Ok E finalmente vediamo Tra l'altro Jason Dopo un bel po' Si vede Jason Anche qui Vedete come i vestiti Cioè io i vestiti Li trovo peggio di Red Dead Però ci sta Perché è un tipo di Open world È diverso Su Red Dead C'è veramente Un dettaglio incredibile Sui tessuti Però ripeto Un trailer Non è la versione finale Però anche qui lui Guardate i dettagli Del volto Guardate Dalla barbetta Agli occhi Qua Le sopracciglia Boh Pazzesco Anche lei Sempre qui Molto dettagliata Qui Momenti di news Allora questo qui Tra l'altro Ci farò Cioè sarà un video Dedicato sulle Sulle notizie Però è Un'ispirazione Un richiamo Ad un vero Criminale Che C'è stata sta notizia Nel 2017 2018 Simil Joker Praticamente Che aveva colpito Appunto lo stato Della Florida Leonida Motto Qui Nulla di nuovo Qui High Rollers Lifestyle Quindi sarà Un altro canale Ci saranno probabilmente Secondo me Diversi canali Youtube Diversi gruppi Che ognuno Poi sarà basato Su una tipologia Di attività Ecco Quindi in questo caso Dei veicoli di lusso Dei veicoli low rider Momento rapina Qua si intravedono Un po' di birra C'è la Peace Wasser Qua dietro Guardate Lei comunque dice Per andare a Per sopravvivere Dobbiamo stare insieme Eccolo qua La Peace Wasser Vari drink Snack vari C'è la Icola Qui Classici Questo appunto Mi sembra palesemente Un momento Qui c'è il Pwn and Gun Quindi Negozio di Di armi Tra l'altro qui Molto bella L'animazione sua Che siccome fanno Una derapata Molto forte Si regge E poi qua purtroppo Le persone piangono Perché 2025 2025 Allora Per un trailer Di un minuto E 30 secondi Io sto a 26 minuti Di registrazione Direi che forse Un'analisi abbastanza Approfondita Io spero Che ti sia piaciuta Quest'analisi Fammi sapere nei commenti Cosa ne pensi Quello anche che magari Tu hai spottato In questo trailer Arriveranno un sacco Di video Nei prossimi giorni Con altri dettagli Da questo trailer E L'attesa adesso Sarà lunga Difficile E sofferente Però Quando arriverà GTA 6 Sarà un gran Un bel giorno